Anzi, a cosa abbiamo assistito ieri? Quanto tatticismo... Ah, ridicolo! No, ma lo dico seriamente, cioè nel senso io penso che... Ecco, prima parlavamo di Craxi, se tu immagini diciamo come era la vita politica all'epoca e la vita oggi, è follia. Ma è una follia che poi... posso fare un paradosso? Cioè noi siamo in piena fase, l'ho letto anche i giornali di oggi, sulla partecipazione dei militanti grillini alle primarie per quanto riguarda le regioni Liguria e Toscana. La metà dell'ultima volta, il che significa che c'è una crisi. Però il virus è entrato nelle istituzioni e i meccanismi che di fatto comandano le logiche all'interno delle istituzioni sono quelle. Perché è assolutamente inspiegabile, io sfido qualunque cronista a dire, a spiegare perché la Lega ha votato a favore del processo, perché la sinistra non si è presentato. Possiamo dire quello, o perché i grillini hanno prima di fatto sulla 18 detto no al processo e adesso dicono di sì. È un meccanismo talmente perverso che alla fine probabilmente non cambierà nulla perché poi andiamo a vedere uno più, però finisce per colpire la reputazione delle istituzioni e di questa classe dirigente. Grazie. Grazie. Grazie.